Buonasera dal nuovo notiziario, il salotto web. Oltre a fare interviste faremo anche servizi fotografici, servizi video per quanto riguarda inerenti al nostro paese di Alatri e fuori di Alatri. Cercheremo già di andare a Dammazzo, Aprile poco prima o poco dopo Pasqua di nuovo a Dammatrice per vedere la situazione. La prima notizia, una bella notizia, il 29 novembre scorso ha festeggiato la signora Ione di Alatri 101 anni. Quindi a lei tanti auguri, anche se un po' di ritardo, davanti a nostra, davanti alla relazione il salotto e cioceria Web News. Andiamo in ordine, c'è stato il nuovo calendario 2023 presentato ad Alatri nella biblioteca comunale intorno alle 11 e rappresenta il sindaco di Alatri, assessori e consiglieri comunali dell'amministrazione 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 di Alatri. Nel calendario sono tratte le foto di fotografici avatoriani e fotografici anche professionisti, quindi con delle foto che hanno catturato il loro paese, ma non hanno partecipato solo personaggi di Alatri o pezzone di Alatri, ma anche di fuori e nelle scuole del nostro paese. Ecco, dopo ci sono stati l'8 dicembre l'apertura delle illuminazioni natalizie, e in Piazza Regina anche molte manifestazioni, anche per quanto riguarda il Papo Natale, ci sarà domenica prossima l'apertura dei presepi artistici per quanto riguarda tutti gli espositori di dare opportunità di visitare i loro presepi, come di solito hanno fatto gli anni scorsi, insomma, tranne i tre anni di Covid. E nel 4 dicembre si sono festeggiati, al comando Gruggiali di Picosinone, la madrona stata barba dei vicini del foro, e ci saranno altri peccatini natalizi, sia a Piazza Regina, Pallet Duradosa e Piazza Sardegna Maggiore, con le casette di legno per fare qualche acquisto sotto Natale. Ci sarà il 6 gennaio anche la festa delle Bifania, la festa dei bambini, la festa della Befana, e come ti consueto andrà anche in Penevicenza, anche nell'ospedale dell'epidemia di Alatri, sapere detto di Alatri. A Guaccino c'è stata anche una manifestazione di franco bolli, di quadri inerenti alla guerra e alla cosa della Polizia di Stato. Ecco, c'è stato anche l'apertura dei presepi, anche lì a Guaccino, proprio qualche giorno fa, e dopo c'è stato anche, ci sarà anche, c'è stato, ci sarà anche in presepi viventi di Alatri, sono arrivati alla nostra dedizione di consueto natalizio, che quest'anno partirà proprio dall'agropoli e in presepi varierà lì proprio nei dentoni dell'agropoli. Per quanto riguarda invece un altro cittadino onorario, visto che lui, come attore, ha fatto divertire tutti, inerenti anche all'agropoli dell'agropoli di Alatri, che è stato anche qui, circa tanti anni fa, per la festa dell'Avis, è stato onorato con una tanca proprio qui a Alatri, per quanto riguarda come cittadino onorario, visto che lui, come correttore, ha fatto divertire tutti, inerenti anche a stato proposito qui, e ha messo il cuore a Alatri per due, per due visite. Ecco, parliamo di Castro de Voci che lì, il 26 dicembre, il primo gennaio e il 6 gennaio, c'è il presepi vivente in cui chi vuole partecipare a quel presepi vivente si può arrivare al prologo di Castro de Voci e segnarsi e fare da parte che piace al prologo di Castro de Voci. Dopo ci saranno altre manifestazioni che ancora teniamo ferme per dare una conferma nella prossima edizione. Per quanto riguarda il nostro notiziario di questa sera, ti avrò l'appuntamento alla prossima edizione. Amen.